presentato giugno in verde l'iniziativa del consorzio in corso campano a giuliano un mese all'insegna del benessere fisico partendo dalla spesa con l'ausilio di un personal trainer ed un team di nutrizionisti giugno green rappresenta un mese dedicato al verde sia dal punto di vista alimentare ma anche ciò che è positivo per la salute e il benessere fisico noi come consorzio abbiamo effettuato abbiamo realizzato un volantino integrativo che sarà disponibile all'interno del punto vendita e che servirà appunto a mettere in risalto delle referenze che riteniamo appunto valide per quanto riguarda questo periodo quindi sappiamo che siamo vicini all'estate quindi tutti vogliamo migliorarci e lo facciamo anche attraverso la spesa i nostri main sponsor diciamo ci hanno aiutato per quanto riguarda le fmt le per tutti diciamo i clienti del nostro punto vendita con uno spese con una spesa superiore a 40 euro potranno avere in omaggio una settimana di palestra completamente gratis invece per quanto riguarda il centro nutrivite loro effettueranno a tutti i clienti del punto del nostro punto vendita uno sconto pari al 30 per cento sulla consulenza che fanno al primo incontro un mese green per noi significa anche un'attività di recupero di tutto ciò che riguarda l'attività motoria di base certamente non siamo qui a promuovere il fitness spinto o quello che può essere bodybuilding o altre forme che sono come dire esclusive di una nicchia di utenza noi siamo qui proprio per dire avvicinatevi allo sport avvicinatevi all'attività motore avvicinatevi alla fitness che oggi l'attività motoria di base più comune più semplice da raggiungere proprio per ritrovare il vostro benessere fisico è molto importante che queste iniziative siano svolte proprio all'interno di un supermercato in quanto la compilazione di una lista della spesa e quindi il conseguente acquisto di genere alimentari rappresentano il primo e fondamentale passaggio per la costruzione di una sana alimentazione per tutta la famiglia è possibile migliorare il nostro benessere il stile di vita senza troppe rinunce vi daremo appunto dei consigli e dei suggerimenti per stilare una spesa per una giusta alimentazione quindi appunto di supportare il consumatore proprio nel luogo dove fa la spesa appunto per delle scelte più consapevoli e quindi vi racconto per delle scelte più consapevoli a O O O O O O O